Nell'ultimo consiglio comunale, vivace dibattito su asilo nido e sul rischio idrogeologico ad Ortescalo. Le nostre interviste al termine della seduta. Dopo il rinnovo del sodalizio tra le due confraternite della Trinità, torna domenica 18 la giornata del confratello. Ne parliamo con Roberto Rondelli. Presentato il libro che racconta gli eroi di Orte della prima guerra mondiale. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Magazine. Lunedì scorso si è tenuto il consiglio comunale ed è stato scontro tra maggioranza ed opposizione sull'asilo nido. Idei chiare e anima Orte sostengono che l'amministrazione sa benissimo che un privato non potrà mai garantire le stesse tariffe di un servizio pubblico essenziale che per sua natura non genera profitto. Il sindaco Giuliani replica dicendo che il progetto della vecchia amministrazione è del tutto inadeguato e che l'asilo non è da ritenere un servizio essenziale. Il dibattito si è poi riacceso sulla sicurezza idrogeologica di Orte Scalo al termine della seduta. Abbiamo realizzato delle interviste che ora vi proponiamo. Il primo punto è il passaggio doveroso sull'asilo nido. Questa amministrazione dalla lettura degli atti, da quanto confermato, intende privatizzare questo servizio che è pubblico ed essenziale e che il Comune è tenuto per i sensi della Costituzione e delle leggi vigenti a mantenere in capo appunto all'ente e quindi abbiamo contestato credo in maniera aspra ma doverosa visto che siamo appunto poi al 5 di novembre e ancora non abbiamo nessun atto ufficiale, nessuna pratica avviata per il comodato d'uso di cui parla appunto questa giunta e niente che dia una certezza ai genitori, a queste famiglie che poi si trovano appunto a dover usufruire di un servizio così importante per un'utenza così importante e delicata. L'altro punto, anzi vorrei fare una premessa prima di arrivare diciamo al discorso caditoie, quello del cimitero francamente richiede anche quello un'attenzione particolare. Siamo come ha detto l'assessore in uno stato di emergenza, non ci sono da tempo i loculi e ancora ci ritroviamo qui a parlare di progetti di fattibilità, a non avere certezza del numero dei loculi che verranno realizzati e tutto molto aleatorio. In una situazione come questa credo che l'emergenza ormai è un'emergenza che c'è da mesi, richieda un'accelerazione, un'impennata da parte di questa amministrazione. Insomma dobbiamo dare delle risposte ai cittadini perché è veramente incredibile che dopo due anni e mezzo di amministrazione siamo ancora a carissimo amico sulla realizzazione appunto dell'ampliamento del cimitero. Il tema della pulizia delle caditoie dei fossi è importante per la sicurezza. L'amministrazione continua a sostenere che sono stati fatti degli interventi, a noi sinceramente non risulta, ci sono delle situazioni che potrebbero diventare esplosive e richiediamo con fermezza che venga appunto anche qui presa in mano in maniera celere la situazione per porre un minimo di rimedio a situazioni tipo quella davanti alla chiesa di Ortescalo. Parliamo di sicurezza pubblica quindi l'argomento è particolarmente delicato. Che cosa non è piaciuto ad Anima Orte di questo Consiglio? Tre passaggi fondamentali sostanzialmente, asilo, cimitero e poi il dibattito finale sia sul lato che sugli scarichi dei fognari. Ma quello che ci colpisce è sempre il prostappochismo di questa amministrazione comunale che non viene mai in Consiglio con delle notizie certe, Millanta che sta facendo, sta facendo, ma noi i risultati in realtà non ne vediamo. Ad esempio per quanto riguarda l'asilo nido comunale prendiamo atto che c'è questa intenzione di concedere incomodato d'uso il locale e quindi sostanzialmente privatizzare, gestire l'asilo nido in forma privatistica. Quello è già qui e ci sarebbe tanto da dire, ma prendiamo atto anche del fatto che oggi 5 novembre ancora non è stata minimamente avviata la procedura per la manifestazione di interesse pubblico da parte di cooperative di tipo A, come era stato deliberato ai primi di settembre, non ricordo, sì il 14 settembre mi sembra, dalla giunta comunale. Eppure siamo appunto al 5 novembre e entro fine dicembre dovrebbe essere definito il nuovo assetto che dovrebbe avere l'asilo nido e qui rischiamo di arrivare al ridosso delle vacanze di Natale con l'assoluta incertezza, tra l'altro anche con il fatto che i bambini potrebbero cambiare gli insegnanti, gli educatori e quindi una serie di problemi organizzativi per le famiglie e di disagio per i piccoli fruitori di questo asilo nido. Apprendiamo però che hanno preso atto dell'emergenza presso il cimitero comunale, finalmente si è deliberato di procedere all'esecuzione di un nuovo lotto di loculi per ovviare all'emergenza presso il cimitero comunale e soltanto che ancora ancora adesso non esiste un progetto esecutivo e quindi anche gli anticipi sono stati dati da cittadini che hanno prenotato la concessione di un loculo sulla base di un semplice progetto di fattibilità. Speriamo che comunque questo serva ad accelerare e realizzare i loculi quanto prima. Per quanto riguarda l'emergenza idrogeologica sicuramente c'è un'emergenza, lo dimostrano i fatti alluvionali accaduti il 9 maggio, però a quello che ci hanno riportato e come li abbiamo sollecitati qui in consiglio comunale non c'è niente ancora di concreto per la pulizia soprattutto dei fossi, soprattutto ad Ortescalo dove si sono accumulati detriti nell'alveo dei fossi intubati e quindi lì va sicuramente spinta e messo in atto presso le strutture di competenza la pulizia di questi alvei perché altrimenti quello che è successo il 9 maggio si potrebbe benissimo riproporre. Fermo restando che questa volta siamo stati fortunati che il peggio ha riguardato altre zone d'Italia purtroppo e non ha riguardato il nostro comune, però tutto quello che sta accadendo con fenomeni meteorologici di grande intensità sempre più frequenti si dovrebbe sicuramente mettere in atto o comunque organizzarsi per operare affinché si possa avere una situazione di pulizia e soprattutto una situazione di stabilità. Quello dell'asilo nido ribadiamo, noi cerchiamo di ampliare e migliorare questo tipo di servizio. Ovviamente dobbiamo fare i conti con l'importo delle tariffe da debitare alle famiglie e soprattutto con le risorse comunali. Noi crediamo che questa nuova possibilità migliori il servizio e contenga le spese. Se ciò non dovesse accadere riconsidereremo le nostre scelte. È una sfida e siamo sicuri però che possa avere una bella riuscita per le famiglie, per i bambini e nel contesto generale per il miglioramento proprio della struttura dell'asilo nido. Poi c'era il problema del cimitero. L'amministrazione ha portato in consiglio comunale e il fatto di fare dei nuovi loculi il numero di 208. C'è stato un po' di dibattito su questo argomento. Vabbè, ma questo è un aspetto tecnico che è stato demandato a chi ha operato la progettazione. Quindi adesso considerare se sono 10 più o 10 meno non è questo il punto. Il punto è che abbiamo dato il progetto, sarà messo a gara e crediamo di realizzare il prima possibile. Sempre sul cimitero abbiamo l'idea di dover fare subito il censimento sulle riesumazioni da fare, liberare i nuovi e ristrutturare i vecchi loculi proprio per evitare un'espansione incontrollata della struttura cimiteriale perché il rispetto dei morti passa anche attraverso la riqualificazione della struttura. Quindi dobbiamo rinnovare le vecchie strutture e realizzare quelle nuove. In conclusione delle interrogazioni che hanno riguardato la vicenda del lato e l'aspetto idrogeologico. Sul lato il Comune ha spiegato che cosa sta facendo, quali sono i passi che ha ottemperato e soprattutto quello che ha intenzione di fare se non verranno rispettati alcuni passaggi che secondo le dichiarazioni del Sindaco non sono state anche legittime da parte della Regione e del lato. Su questo è un'altra sfida, noi non daremo mai il nostro servizio idrico integrato, quindi l'acquedotto a Talete. Quello che ci fa riflettere è che sia il Presidente del lato e il Presidente della provincia, sia il Presidente della Regione che poi hanno lo stesso colore politico, continuano a porre in essere comportamenti e atteggiamenti illegittimi facendo una minaccia psicologica di volerci commissariare. Noi vogliamo il rispetto di un confronto secondo una legittimità e rispetto delle normative previste, vogliamo avere un confronto costruttivo per dimostrare che siamo un Comune virtuoso, abbiamo acque pregiate, sono in zone vincolate, abbiamo un servizio idrico integrato che funziona perfettamente. Quindi crediamo di avere tutti i requisiti dell'articolo 147. Siamo in grado di poterlo gestire nuovamente, abbiamo fatto una nuova gara d'appalto dove abbiamo previsto una squadra di operai dedicata specificatamente alla manutenzione dell'acquedotto e crediamo quindi di poter vincere anche questa volta questa nuova sfida anche in considerazione del fatto che in questi due anni crediamo di aver servito la cittadinanza e la popolazione nel migliore dei modi possibili. Sull'aspetto idrogeologico più che altro poi è stato il Consiglio Comunale ha espresso diversità non di risolvere il problema ma di individuare il problema chi sosteneva che era a monte, chi avvalle, insomma si riesce un po' a capire cosa si deve fare per limitare questo disagio grande che può creare un fenomeno meteorologico. Allora, purtroppo la situazione climatica è cambiata, è cambiata in tutta Italia e anche Orte. Purtroppo a maggio abbiamo avuto la percezione di quello che significa avere questo tipo di situazioni. Il problema è che dobbiamo essere tutti sensibilizzati nel rispetto della natura e nell'accorgimento di avere, avendo Orte e Scalo soprattutto in zona ai piedi in una collina, di avere rispetto e manutenzione dei fossi dai privati e degli enti pubblici. Noi sappiamo perfettamente che la competenza fino alla strada provinciale è del Consorzio Alto Val di Paglia per quanto riguarda la fascia di Orte e Scalo e lo vogliamo sollecitare nuovamente per fare in modo che pongan essere tutte le attività necessarie per prevenire quello che è successo a maggio. Al tempo stesso vogliamo sollecitare anche tutti i privati cittadini a fare maggiore attenzione nella cura dei fossi che attraverso le loro proprietà. Noi come Comune ci ripromettiamo ovviamente di intervenire nell'emergenza e quindi di creare una situazione di sicurezza ma soprattutto di richiedere finanziamenti per progettazioni di interventi risolutivi che possono evitare questo tipo di calamità che purtroppo si abbattono sempre più spesso nel nostro Paese. Ecco proprio di questi giorni la notizia è che il Comune vorrà dare seguito alla ordinanza fatta per la manutenzione dei fossi da parte privata e quindi ci sarà ancora una verifica, un controllo da parte del Comune se il privato ha pulito il proprio tratto di fosso. Certamente faremo dei controlli perché, ripeto, non è un atteggiamento pressatorio, è un problema di assunzione di responsabilità. Se tutti quanti facciamo il nostro dovere probabilmente evitiamo situazioni che poi possono complicarsi e possono creare pregiudizi anche a terze persone. Noi come Comune ci attiveremo nuovamente il primo possibile presso il Consorzio e cercheremo di mettere in atto e di richiedere i finanziamenti necessari per mettere in rete una serie di interventi preventivi, se ce lo finanziano, per evitare nuove situazioni di pericolo. Mercoledì prossimo un altro Consiglio Comunale, ma questa volta non nella consueta sede di Palazzo Nuzzi, bensì all'interno della stazione ferroviaria. Punto unico all'ordine del giorno, l'alta velocità ad Orte. Tele Orte sarà presente al Consiglio Straordinario e lo trasmetterà non appena terminato. La scorsa settimana la Lega Orte aveva inviato una lettera alla Regione Lazio e dalla ASL chiedendo informazioni in merito al servizio di radiologia nel Centro Salute di Orte. La ASL risponde dicendo che le sedute settimanali saranno incrementate da 3 a 5. L'attivazione delle sedute aggiuntive, si legge nel comunicato dell'azienda sanitaria, era già programmato da tempo. La Lega Orte mantiene comunque alta l'attenzione sulla sanità e lo fa chiedendo informazioni all'amministrazione, questa volta sul fatto che l'Ares 118 effettuò circa due anni fa un sopralluogo allo stadio comunale per il suo impiego anche notturno per la fattibilità di un servizio di eli soccorso. Lega Orte ritiene assurda quanto incomprensibile la mancata risposta, ovviamente positiva, da parte della nostra amministrazione dopo il sopralluogo effettuato. Questa mancata risposta, dice la Lega Orte, lascerebbe pensare che l'amministrazione non comprenda l'importanza che può avere tale servizio salvavita, perché di salvavita trattasi. Dopo la cerimonia del rinnovo del sodalizio avvenuta sette giorni fa, le confraternite ortane si apprestano a vivere un altro evento, la giornata del confratello. Marco Nicoletti ha incontrato il rettore Roberto Rondelli. Con Roberto Rondelli, rettore delle confraternite riunite di Orte, per parlare del sodalizio che c'è stato sabato scorso. Sì, è stata una bella manifestazione, pienamente riuscita. Devo ringraziare innanzitutto Don Maurizio che ha dato piena disponibilità. Effettivamente la Santa Messa solenne che si è celebrata in cattedrale con il rito antico, quindi il latino, ha suscitato un po' di meraviglia, anche stupore da parte di tutti i presenti. Abbiamo ricevuto diverse testimonianze di persone che sono rimaste estremamente soddisfatte, specialmente le persone più anziane che erano ormai 50 anni, che non assistevano a una Santa Messa in latino, ma anche da molti giovani che forse per curiosità sono venuti e sono rimasti colpiti da questa celebrazione. Quindi è andato tutto bene, i risultati sono stati positivi, come d'altronde è stata anche positiva la manifestazione che c'è stata della benedizione della nuova croce della nostra confraternita della Santissima Trinità, il Tronchetto, una croce che è stata ricostruita su un disegno ricavato del 1700, che è stato rintracciato nell'archivio storico del nostro delle confraternite, e poi positiva è stata anche la conferenza che è sette una nella Chiesa di San Biagio proprio sull'iconografia della Santissima Trinità. Questo quindi grazie a questo incontro che c'è stato tra l'Arciconfraternita della Santissima Trinità di Roma e le confraternite di Orte e in particolare della confraternita della Santissima Trinità sempre di Orte. Un altro ringraziamento che voglio fare pubblicamente anche al coro della cattedrale, che è riuscito in tempi stretti a mettere su diversi pezzi in canto gregoriano. Quindi tutto è andato bene, siamo estremamente soddisfatti di quello che è stato dell'intera giornata. Ecco, questo rinnovo del sodalizio tra l'Arciconfraternita di Roma e la confraternita della Santissima Trinità di Orte avrà un seguito il 2 dicembre? Sì, perché quando è stato fatto il rinnovo del sodalizio noi abbiamo consegnato all'Arciconfraternita di Roma una supergamena, una copia di una lettera che da Orte era partita per Roma addirittura 461 anni fa. Dall'altra parte l'Arciconfraternita non ha fatto in tempo, perché questa doveva essere anche una sorpresa, ma la Santa Sede ha consegnato una pergamena che ci verrà poi consegnata il 2 dicembre in quell'occasione per quanto riguarda il rinnovo dell'indulgenza plenaria che è stata concessa proprio per questa occasione. Quindi questa è una cosa fuori dal normale che ci riempie di soddisfazione. Ecco, le attività delle confraternite non si fermano qui perché domenica prossima c'è di nuovo la giornata del confratello. Sì, domenica 18 novembre si rinnova questo appuntamento, ormai siamo giunti alla nona edizione. È un incontro tra tutti i confratelli e i loro familiari, ma è aperto a tutti i cittadini di Orte che vogliono stare con noi l'intera giornata per parlare, per affrontare anche problemi di una certa rilevanza, ma anche per stare insieme, per divertirci. La giornata ricalca quello che è lo stesso programma dello scorso anno. Andiamo alle nove e mezza al cimitero per omaggiare i nostri defunti, i confratelli defunti, con delle preghiere, con omaggio floreale. L'anno scorso siamo rimasti anche un po' meravigliari della larga partecipazione che c'è stata. Sinceramente non ce l'aspettavamo. Dopodiché alle dieci e mezza presso la chiesa dell'ospedale si svolgerà l'assemblea generale dove lì vengono tracciati sempre quello che è stato fatto durante l'anno e quello che si vuole programmare per il prossimo anno, in modo che tutti i confratelli sanno con esattezza quale sono tutte le attività che svolgiamo. Poi ci sarà come sempre la Santa Messa, quella delle undici e mezza, e successivamente alla Messa, a proposito, chi vuole partecipare anche con il saio è benvenuto. Finora noi siamo in una rappresentanza, ma l'abbiamo visto anche per la Messa solenne che c'è stata sabato scorso. C'erano i confratelli della Santissima Trinità di Roma, che erano una ventina con il loro saio rosso. C'erano 25, mi sembra, 25-30 nostri della confraternita della Trinità, sempre il rosso, e poi c'erano una rappresentanza delle altre confraternite. Di fatto abbiamo ricevuto richieste perché qualcuno voleva partecipare col saio. E lei, insomma, alla fine tra neri, grigi, tutti i confraterniti, i bianchi, insomma, alla fine eravamo una quarantina, insomma. Questo ci ha fatto estremamente piacere, tra cui anche diversi giovani. Così, vogliamo dire pure, se domenica la Messa, oltre alla rappresentanza, se qualcuno vuole partecipare con il proprio saio, con la propria veste della confraternita, è ben accolto. Dopodiché c'è sempre il solito pranzo del confratello, che viene sempre fatto presso la contrada San Gregorio, che ringrazio perché ce la mettono a disposizione. E' quello un pranzo per stare un po' insieme, in comunità. E tra l'altro ci serve anche per, diciamo sì, trovare quei fondi necessari per andare avanti con le nostre attività. Perché lì noi contiamo molto sulla presenza di alcune signore di una certa età che c'è per fare un pranzo così gratuitamente. Noi pensiamo all'acquisto della materia prima, quindi tutto è ricavato, anche se poi il pranzo è... Le lotterie che si fanno durante il pranzo. Il pranzo è 16 euro, poi ci stanno le lotterie, decine e decine di premi, e quello lì ci permette di trovare quei soldi, parte dei soldi che ci servono per fare, diciamo sì, quasi l'ordinaria amministrazione, insomma. Quindi questo è il programma anche di quest'anno, e tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Torniamo adesso alla giornata di sabato scorso e vediamo le interviste che abbiamo realizzato. Qual è il significato di questa giornata del sudalizio? In questa giornata abbiamo, grazie all'iniziativa dei confratelli dell'arci confraternita della Santissima Identità dei Pellegrini di Orte, che per noi si sono rivelati una realtà veramente dinamica, attiva, esemplare anche per noi, e il significato è stato questo, rinnovare un sudalizio che risale agli inizi dell'arci confraternita di Roma ai tempi della fondazione, con la quale tutte le indulgenze che si applicano all'arci confraternita di Roma si applicano a quelle di Orte e infatti noi poi il 2 dicembre daremo loro l'attestato alla penitenzieria che rinnova la concessione di queste indulgenze. L'arci confraternita nasce, come dice il nome, per l'assistenza ai convalescenti, ai pellegrini, che venivano a Roma per il giubileo e quindi noi speriamo, rinnovando questo sudalizio e quindi con la comunione di indulgenze e privilegi concessi e confratelli, di rinnovare anche le attività di misericordia spirituale e corporale, di assistenza ai diversi tipi di bisogni che ci sono oggi. Una volta c'era la povertà estrema più materiale, adesso magari c'è una povertà di tipo diverso, una povertà di tipo spirituale, morale, ma comunque c'è bisogno di laici che diano l'esempio, che si facciano promotori attivi di una presenza sociale, di un modo attivo di vivere il cristianesimo e devo dire che Orte per noi ha rappresentato una bella scoperta, non solo perché è bella Orte, ma perché questi confratelli veramente ci hanno dato un esempio di grande attività, di grande dinamismo, ne siamo veramente contenti ed edificati. E avrà quindi un seguito questa giornata di oggi? Assolutamente sì, noi li abbiamo già invitati il 2 dicembre da noi per la nostra vestizione, dove faremo uno scambio di attestati relativi alle indulgenze concesse dalla penitenzieria e poi intendiamo programmare, compatibilmente con gli impegni, perché la vita moderna è quella che è, di programmare una serie di attività comuni in cui per esempio la loro delegazione può partecipare e parteciperà a nostre iniziative religiose o culturali, processioni, durante l'anno ce ne sono tante, attività liturgiche di vario tipo e anche attività culturali, conferenze, proprio per tenere vivo questo rapporto perché riteniamo che oltre ai benefici spirituali, che sono la prima missione delle confraternite, ci sono anche tanti benefici reciproci, anche culturali. Vediamo qui a Orte c'è questo dinamismo delle confraternite che può essere, ad esempio per Roma, che è una città ormai forse un po' più decaduta dal punto di vista morale e spirituale, ma che può rivivere. Quindi quello che un tempo da Roma è andato in giro per l'Italia e per il mondo, dal mondo e dall'Italia ritorna a noi, grazie pure a questi confratelli di Orte così gentili, così ospitali, ci hanno fatto vivere questa giornata veramente bella e di cui li ringraziamo. Giuseppe Bellucci che ha ritrovato il bozzetto presso l'archivio delle confraternite di Orte, che difficoltà ha riscontrato nel ritrovare questo bozzetto? L'interessante è stato il fatto di averlo ritrovato tra i documenti e quindi le confraternite della Santissima Trinità, si è subito entusiasmata l'idea di poter realizzare un qualcosa di così storico. La difficoltà è stata quella di trovare poi gli artisti che mettessero in opera questo dipinto, questo bozzetto. Abbiamo fatto un po' di preventivi, ma soprattutto ci siamo rivolti a degli scultori d'arte, più o meno tutti erano abbastanza concordi sulla datazione, pur essendo su una carta ottocentesca, però il disegno si rifà un periodo tra il 600 e il 700, più il 600 e il 700. Quindi la difficoltà era soprattutto rifare tutte le varie sagomature, tutte le varie intarsi e poi l'importanza di mettere l'oro, la foglia d'oro con la tecchina a guaccia, che è una tecchina antichissima, per cui riprendere tutte queste caratteristiche e realizzarle. Per cui dopo aver fatto una serie di indagini e di valutazioni siamo riusciti a parlare con Lorenzo, che fra l'altro è il restauratore ufficiale delle confraternite di Orte, e lui si è messo a disposizione e tra una valutazione e l'altra è nata questa croce, che devo dire è stato un impegno di alcuni mesi, ci siamo relazionati per vedere come andavano i lavori, soprattutto sull'oro e la cosa finale più importante è il rosso, trovare un rosso che sia un rosso antico, un rosso che ricordi veramente la carità in tutti i suoi aspetti. E siamo riusciti a trovare anche questo fin quando siamo arrivati a questa realizzazione, che devo dire che ha un impatto molto forte. Rimaniamo in tema di confraternite, dando notizia che il Museo Diffuso delle Confraternite, ancora in corso di ampliamento, è stato accreditato presso la Regione Lazio. L'accreditamento arricchisce il paronama culturale di Orte, visto che fino ad oggi era accreditato solo il Museo di Arte Sacra. Il riconoscimento darà al museo la possibilità di un ulteriore sviluppo. Nell'ambito delle celebrazioni del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, è stato realizzato un libro che pone in risalto gli eroi di Orte. A margine della presentazione abbiamo incontrato gli autori e i relatori a Palazzo Nuzzi, nella Sala delle Bambiere, dove si è tenuta una piccola conferenza. Ascoltiamo. È il centenario della fine di un qualcosa che è rimasta non nei nostri cuori soltanto, ma anche nella memoria, perché vi hanno partecipato soprattutto i nostri nonni. fu anche, secondo me, l'ultima guerra del Risorgimento Italiano, grazie alla quale gli ultimi territori tra Alpi e Sicilia vennero riuniti alla madrepatria. E' stata anche l'occasione in cui i cittadini del giovane Regno d'Italia divennero veramente fratelli. Le incomprensioni semplicemente linguistiche che c'erano all'interno del territorio, riunito con le armi, si cementarono, stemma strano dirlo, ma nel fango delle trincee. E secondo me lì, finita la guerra, è nata l'Italia. Come è nata l'organizzazione di questa giornata, ti chiedo? Sì, allora noi abbiamo voluto con Bruno e abbiamo avuto anche da parte delle associazioni del Comune di Orte l'appoggio, abbiamo voluto proprio ricordare questi nostri ragazzi, questi nostri giovani che proprio cento anni fa hanno dato la loro vita, hanno dato anche gran parte della loro giovinezza per portare a compimento, come abbiamo detto bene con Bruno, il Risorgimento. Noi abbiamo voluto dare un'idea della storia dal punto di vista dei ragazzi, dal punto di vista dei combattenti, non la grande storia, i grandi eventi o la grande strategia delle battaglie o della guerra stessa. Ecco, la visione che abbiamo voluto dare è stata proprio quella di ricordare questi ragazzi, questi giovani, lo vedremo poi nel corso della presentazione, giovani più o meno coscienti del loro sacrificio, ma soprattutto animati da un grande spirito di Padre. Dicevamo prima, forse è stata la prima occasione in cui veramente l'Italia ha dato prova di sé per concludere appunto l'unità d'Italia. Io sì, sono qui come Hauser perché il tema appunto del ricordo, del tramandare la memoria di ciò che è stato alle giovani generazioni, è un nostro impegno costante. In questa occasione sono grata a Stefano Stefanini di avermi invitato perché mi dà l'opportunità di sottolineare che questo ricordo è importante, non siamo qui per festeggiare perché i 650.000 morti che sono costati e la vittoria della prima guerra mondiale non meritano un festeggiamento, ma un ricordo sì. è molto utile affrontare i grandi temi della storia internazionale, parliamo di una guerra mondiale e della storia nazionale proprio con la dimensione territoriale perché così riusciamo a entrare anche nelle pagine più vissute dalla storia, uniamo la storia e la memoria e guardiamo i nostri territori, questo sembra sempre molto utile. Ed ora come di consueto scopriamo le previsioni meteorologiche e quindi diamo la linea al trebimeteo.com Amici Trebimeteo, benvenuti a questa nuova edizione del Tg di Trebì. La situazione attuale vede ancora nuvole e piogge insistere su alcune zone dell'Italia, in particolare sulle regioni di nord-ovest e nella giornata di venerdì qualche acquazzone raggiunge anche la Sardegna e la Toscana, ma nel resto del paese sono tornate delle ampie schierite, la situazione finalmente sta migliorando. Guardiamo la distribuzione della pressione al suolo a livello europeo, ancora con questa bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che condiziona il tempo al nord-ovest e in Sardegna venerdì, poi sabato si sposta verso la Sicilia. Vediamo quindi le piogge previste sul nostro paese, ancora diciamo le regioni nord-occidentali, nel corso di questo venerdì raggiunta anche la Toscana e la Sardegna e poi sabato degli acquazzoni si muovono verso la Sicilia, ma nel resto del paese, situazione buona con ampie schierite, cominciano però a tornare le nebbie nelle valli interne del centro-sud e sulla pianura padana orientale. Ma poi guardate, a partire da domenica, ma ancor più da lunedì, arriva l'estate di San Martino, alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, settimana prossima temperature anche ben al di sopra della norma, però attenzione, settimana prossima anche nebbie al nord in pieno la padana e nelle valli interne del centro. Con questo è tutto, per i dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Ed ora scopriamo la programmazione del Cine Alberini di Orte. In programmazione abbiamo lo schiaccianoci e quattro regni, il segreto sta per essere svelato, sabato 10 e domenica 11 ai seguenti orari, 15.30, 17.30, 21.40, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 alle ore 21.30, mercoledì 14 vi ricordo l'ingresso a 4 euro. E' tutto per questa edizione del TG Magazine, a seguire vi ricordo l'appuntamento con fatti e commenti, noi ci vediamo alla prossima edizione, arrivederci!